Particolare attenzione, signor Potter. La perdita di un arto non varrà come scusa. Pagina 394. Il termine lupo mannaro proviene dal latino lupum hominarium, derivato di homo, che vuol dire uomo, e lupum, lupo, uomo, lupo. Ci sono diversi modi di inventare un homo anaro quando si ha il potere di portare forma, quando si è morsi dopo un arco o quando si nasce. Mamma mia, l'extremis proprio. Il boccino d'oro. Oh, lupo. Oh. Oh, il disegnatore. Oh, il disegnatore. Oh, mamma mia. 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 Oh, mamma mia.